Ciao, allora cosa è adesso oggi? Oggi è una giornata molto piovosa, comunque fa abbastanza caldo un istante ai 20 gradi, quindi, e cominciamo insomma dal, no, cominciamo, allora, da un po' ho una borsa di paglia, ovviamente non voglio vedere l'ho comprata, una borsa molto civile, molto terribile, ovviamente andando in store, una shopping bag perché ho fatto degli appresti, un ombrello, l'ho guardato perché sta piovendo, un vestitino con lunghe un range sui lati, niente al collo ovviamente perché ha già una scollatura abbastanza importante, leggi, leggi, e delle zette di paglia che secondo me sono poco addette alla pioggia, ma non faccio questo il mio look, l'orologio, l'orologio bianco, degli orologi allenati al color brown, e niente, questo è il mio look di oggi, anche se è il muro serenoso che rimane, vi saluto, passo, ciao.